Eccoci con il mister subito nei minuti dopo la partita. Allora mister, tre punti d'oro quelli di oggi, un como rimaneggiato ma i ragazzi ci hanno messo il cuore e l'anima per ottenerli. Sì, rimaneggiato magari noi già dall'inizio che diciamo di avere a disposizione un gruppo folto e di qualità, quindi non avevo dubbi sul fatto che fosse dimostrato che oggi è importante oggi dare un segnale dopo due sconfitte, non avevo dubbi, sarebbe arrivato infatti. Una grande partita di Falcone e naturalmente è il grande impegno di tutti. Falcone però è stato determinato almeno nel finale in un paio di occasioni. Falcone deve imparare a farsi trovare pronto quando è ora e so che lo farà e l'ha fatto. Defendi, Gans e i due Bomber, assegno anche oggi. Sì, hanno fatto una buona partita, non avevo dubbi sul fatto che facessi un'ottima gara, c'era grande spirito e soprattutto c'è questa convinzione che siamo una squadra forte che sta studiando per diventare grande. Adesso è un po' più di sereno rispetto a sette giorni fa, si può guardare lo scontro con l'Alessandria tra qualche giorno. Sì, adesso abbiamo una serie di impegni consecutivi che cercheremo di onorare in una maniera migliore. Sei sempre un po' critico nelle tue interviste, oggi trovi qualche critica, magari anche autocritica. No, oggi sono tranquillo, ma ero tranquillo anche prima della partita. Grazie mister.